Chi l'avrebbe mai pensato che all'interno della Divina Commedia ci fossero tantissimi riferimenti alla matematica, alla fisica, alla cosmologia? In realtà per noi nel 2021 è abbastanza impensabile una cosa del genere, perché conosciamo molto bene la distinzione tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, cosa che però ai tempi idea di Dante non era così netta come lo è oggi. E quindi ritrovare alcuni fenomeni scientifici tra le righe della Divina Commedia non deve essere così assurdo. Oggi vedremo, in onore dell'anno dedicato a Dante, alcuni pezzettini in cui Dante ci dà degli spunti per parlare di scienza. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo alcune terzine tratte dalla Divina Commedia che parlano di scienze. Ce n'è una in particolare che è molto molto interessante dal punto di vista scientifico, perché getta le basi per il metodo scientifico, che in realtà ai tempi di Dante non esiste ancora. Bisognerà attendere Galileo Galilei per la formulazione del metodo scientifico. Però Dante, tra le sue rime, ci dà uno spunto molto molto interessante. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta l'oraggio all'apposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cadere della pietra in egual tratta, siccome mostra esperienza e arte. Così mi parve da luce rifratta. Qui vi dinanzi a me percosso, perché a fuggir la mia vista furratta. Cerchiamo di contestualizzare questi versi. Dante si trova nel purgatorio e ha una luce che riflette su di sé. A un certo punto questa luce diventa così intensa da quasi accecarlo. E lui dice che deve voltare lo sguardo per non rimanere ne accecato. Ma quello che è interessante dal punto di vista scientifico è il modo in cui dice che questa luce è intensa e che lo acceca. Lui fa riferimento alla legge della riflessione. Perché fa riferimento ad un raggio di luce che salta, che rimbalza, che riflette su una superficie come uno specchio o come l'acqua. E rimbalzando arriva ai nostri occhi. Infatti quando noi guardiamo il mare e riflette la luce del sole ci dà molto fastidio. Perché il raggio ci arriva direttamente negli occhi. E lui fa proprio riferimento a quella legge, alla legge della riflessione. Quindi per quanto non fosse formulata ai tempi di Dante la legge di Snell Cartesio e tutta la parte dell'ottica dei raggi di luce. Perché in realtà Dante sapeva, conosceva come funzionava la riflessione della luce. Cosa vuole fare Dante in questi versi? Cosa vuole esprimere tramite la descrizione così bella e così poetica della riflessione? Vuole far capire a chi sta leggendo che la luce che gli arriva non è una luce che è propria degli oggetti che stanno emanando quella luce. Ma che in realtà stanno riflettendo una luce. La luce di chi? La luce di Dio. Ovviamente non dobbiamo mai dimenticare tutti i riferimenti a Dio che ci sono nella Divina Commedia. Ovviamente il pensiero scientifico c'è, ma come vedremo è ancora lontano dalla realtà dei fatti. Quindi è ancora una spiegazione scientifica, metafisica, non ancora fisica, di molte cose. Adesso c'è un altro passo che vi vorrei analizzare. E' molto molto bello e che non descriverò nei dettagli, ma vi leggerò solo le literzine più importanti. Che, come vi accennavo prima, danno un mini segno di metodo scientifico. Ma ditemi, che sono gli segni bui di questo corpo che la giuso in terra fa d'Inkaink favoleggiare altrui? Ella sorrise alquanto. E poi, se li erra all'opinione, mi disse, di mortali dove chiave di senso non diserra. Certo, non ti dovrei impungere gli strali d'amminazione ormai. Poi dietro ai sensi. Vedi che la ragione ha cortedali. Dante, in questi versi, sta chiedendo a Beatrice che cosa sono quei segni bui sulla luna. Cioè sta facendo riferimento alle macchie lunari, che erano praticamente un mistero per gli esteri umani a quel tempo. I versi poi continuano con le teorie che Dante ha. Dante ha due teorie. La prima possibilità è che le macchie lunari siano dovute a una densità diversa, nulla praticamente, della luna. La seconda ipotesi che propone Dante a Beatrice è che la densità non sia nulla, ma che sia molto vicina allo zero. Cioè sia minore comunque rispetto al resto della luna. Questa minore densità creerebbe queste concavità. Noi siamo più distanti da quelle cavità che dalla superficie. E quindi pensa che sia dovuto al fatto che la luce in qualche modo venga dispersa. Ovviamente non lo dice così male come l'ho detto io, lo dice in versi, in maniera molto più poetica. Quello che è interessante in questi versi non è tanto quello che pensa Dante e le teorie annesse, ma è quello che risponde Beatrice. Se fosse densità zero, come dici tu, ci dovrebbero essere delle cavità. Quindi quando c'è un'eclissi di sole, queste zone, come dici tu, cave, dovrebbero risultare in qualche modo. E invece no, non si vedono lo stesso. E come invece confuta la seconda ipotesi di Dante. Quella è ancora più interessante, questa ve la leggerò. Tre specchi prenderai e i due rimuovi, da te d'un modo e l'altro più rimosso. Tramboli i premi, gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso ti stea un lume che i tre specchi accenda e torni da te ripercosso. Ben che nel quanto tanto non si stenda, la vista più lontana li vedrai, come convien che ugualmente risplenda. Cosa sta dicendo a Dante? Sta proponendo un esperimento da fare al poeta. Questa è una parte molto molto interessante. Gli sta dicendo Prendi tre specchi, mettili a distanze diverse e guarda i tuoi occhi. Il colore dei tuoi occhi sarà uguale in tutti gli specchi. Fai la stessa cosa con una candela, mettila lì ferma e guarda il riflesso della candela da tutti gli specchi. Noterai che il colore della candela non cambierà neanche nello specchio più lontano. Sta confutando la seconda tesi, quella che dice che dipende dalla lontananza, quell'oscurità. Ovviamente poi Beatrice darà una spiegazione delle macchine lunari metafisica, non fisica. Però quello che è interessante è che Dante aveva già percepito una sorta di metodo scientifico in cui fare un esperimento per confutare, per confermare un'ipotesi. Metodo scientifico che poi verrà, tra virgolette, coniato da Galileo Galilei negli anni successivi. Abbiamo visto fisica, astronomia in qualche modo con la luna. Adesso vediamo la matematica, che vi ho proposto anche all'inizio. Questa terzina esprime un problema matematico di risolente già all'antica Grecia, cioè la quadratura del cerchio, cioè avere un quadrato che ha la stessa area di un cerchio. Noi ora sappiamo che la quadratura del cerchio non è possibile, ma lo sappiamo perché qualcuno lo ha dimostrato nel 1800. Ai tempi di Dante era una cosa che si era intuita, ma che non si era compresa fino in fondo, perché non avevano ancora gli strumenti matematici per poterlo dimostrare. Bisogna aspettare solo il 1800 per dimostrare che il π è un numero trascendente e che quindi la quadratura del cerchio effettivamente non può avvenire. Dante utilizza questo espediente matematico per poter esprimere il suo malessere interiore, perché per quanto si sforzi e per quanto ci possa provare, lui non riesce a comprendere appieno, diciamo, Dio. Mettiamola così, detta molto facilmente. Le ultime terzine di oggi sono... Qui Dante ci sta spiegando in maniera molto molto poetica che un triangolo ha come somma degli angoli interni 180 gradi, perché dice a un certo punto che è molto facile intuire che in un triangolo non ci possono essere due angoli ottusi e che quindi due angoli ottusi mi diano una somma maggiore di 180 gradi. Quindi questo è il quinto postulato di Euclide. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.